Per Aldo Cascone la benedizione del Partito Democratico ed il placet di De Luca che con il figlio Piero sta gestendo la difficile situazione della città di Pagani. Ieri sera è arrivato in città Fabio Tamburro, l'inviato della segreteria provinciale a dirimere la cherella interna che trova come nelle migliori saghe e beghe di sapori familiari che si sono ripercossi sul partito. 14 iscritti hanno svestito la casacca del PD per cucirsi addosso quella di Italia Viva, dovendo seguire il direttore dell'ASPA, fautore della separazione. Il gesto che tanto eclatante non è apparso agli addetti ai lavori di uno dei coordinatori di circolo, Davide Nitto, sarebbe solo la goccia che avrebbe voluto far traboccare il vaso. Certo è che a sinistra sono diversi i tavoli da gioco, ma ieri il PD avrebbe detto la parola fine ad ambiguità e sotterfuggi. Una nota stampa lo confermerebbe. Il PD sosterrà la coalizione civica di Aldo Cascone e che nella logica deluchiana non schiererà il simbolo, ma sarà presente con un raggruppamento civico di area. Tutti quelli che non intendono seguire queste indicazioni andranno per la loro strada, che non sarà quella del governatore. Come dire, uomo avvisato, mezzo salvato. Bisognerà ora vedere cosa faranno in primis l'ex sindaco Salvatore Bottone, al quale il PD ha già chiesto il conto dell'appoggio incondizionato di un anno fa. Certo è che al bonde Luca potrebbero non andare giù intese o laboratori politici di altra natura. L'ex primo cittadino stava infatti cercando di mettere insieme tutti gli ex candidati a sindaco della precedente tornata elettorale, coinvolgendo lo stesso coordinatore PD Nitto, cosa che giustificherebbe il suo gesto eclatante. Al tavolo ci sono Lello De Prisco, Santino Desiderio ed anche qualcuno vicino ad Enzo De Pascale. Dall'altra la proposta avanzata dal gruppo Donato Novi per Calabrese Sindaco. Anche su questa ipotesi il PD avrebbe risposto picche. Ed infine il direttore dell'ASPA, consapevole delle distanze che ormai ci sono con il partito di Zingaretti e che starebbe mettendo su un manipolo di liste tra le quali Italia Viva e Pagani Democratica, quest'ultima per chiamare e chiarire ammiguità di fondo, secondo i beni informati. Oltre ad una lista di fuoriuscite della Lega con Pietro Sessa ed un altro schieramento legato al vice sindaco uscente Anna Rosa Sessa. Questo il quadro del centro-sinistra, che non fa escludere colpi di scena se dovessero intervenire ordini dall'alto, ai quali tutti potrebbero doversi uniformare.